Posso farlo con questo in apertura, se ho dimenticato qualcosa, è calciare. Posso farlo anche con questo in chiusura, quindi lui mi attacca. Quindi posso... Insieme a me era difficile pure fare la trancata, ma non ho contento. Allora, tu perché vedi il finale, tu pensa e invece ci pensi. Ho fatto questo, e a cui ci arrivi. Ormai sì, anche se ho paura. Colpisci, ok, è passato in quale. E da qua ce la facciamo. Lui mi sta colpendo. Non mi farei niente. E poi lui dice, no, girati. Ci siamo fino a qui. Ok, adesso ho paura, non so cosa fare. Alzo solo la mano. Alzo solo questa mano. E questa l'abbiamo fatta oggi. Ah, la paura. Ma questo è perché ero spaventato da questa parte. Luca, sei in ferie oggi? Non ti spaventare più, eh. Luca, mica fai la notte oggi? No, non penso quello che ci fanno. Oggi con tutti...